Cominciamo con la partita di oggi dell'ARES, non hai mai giocato, però la squadra ha giocato sicuramente una partita bella. Iniziamo dal gioco di oggi, non hai giocato, ma abbiamo giocato molto bene. Cosa pensi? Sì, credo che abbiamo giocato bene come squadra e è stato bello vedere i compagni di giocare, è stata una bella partita. E sappiamo che nei giorni scorsi, tra l'altro, proprio per come hai giocato bene qui in Italia, sei stata prestata anche a Bologna per il torneo di Viareggio. Come ti sei trovata e cosa ha significato per te? Siamo che tu hai giocato con Bologna e che tu hai giocato per loro, cosa pensi sulle esperienze? E' stata una buona esperienza. E' sicuramente piaciuto giocare con le ragazze. E' stato un modo diverso di soccer e giocare contro le squadre, quindi è stato molto bello. E' stato un'esperienza bellissima, è stato bello giocare con gli altri ragazzi. e il modo di giocare è ancora diverso, però comunque interessante. E' stata una bella esperienza. Come ti stai trovando invece qui nella REST? Perché noi ogni partita che ti vediamo giocare, al di là di oggi, ti vediamo sempre meglio, migliorare sempre di più. Come ti senti a te in questo team? 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 Oh, come giocato con REST? Oh, mi senti bene! Mi piace giocato con questo team. Mi piace ai coach e tutti è bello. E' spero che finissi il giorno con l'altro. Grazie molto a giocare qui. E la posta mi accompagna con il mister Ebbè. E spero di finire i vostri spiagni a vostri noi. E spero di finire i vostri spiagni a vostri noi.